Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ultimo giorno della terza settimana ragazzi, alleniamo gambe oggi e addominali. Cominciamo ovviamente con lo squat, faremo 4 serie per 20, 15, 10 e 5, ma prima ci peseremo. Ragazzi, 57 kg, punto 75. Grasso corporeo 12,3. Ok ragazzi, eccoci qua con lo squat, faremo 4 serie per 20, 15, 10 e 5, ovviamente il peso aumentato, passiamo da 30 a 36 kg, quindi 36, 46, 56, 66 kg. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Perfetto! 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 Ok ragazzi! Sono morto! 66 kg! Si sentono! Guardate che bilanciano enorme! 66 kg sono giusti per ora! Ho trovato il peso giusto per aumentare poi e fare l'esercizio pesante per ora! Sono distrutti per 5 ripetizioni di 66 kg! Adesso passiamo al prossimo esercizio! E' lo squat bulbero! Faremo 3 serie per 8 ripetizioni per gamba! Voi vedrete solo una serie e ci vediamo con l'esercizio! Perfetto! embr rulers E qui sul Perfetto! La stupire! Perfetto! 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 Ragazzi, siamo al terzo esercizio, abbiamo leg station, 4 serie per 10, 40 kg, ecco qua, faremo 4 serie per 10, ovviamente quello già detto, voi ne vedrete solo una, ci vediamo l'esercizio, ok ragazzi, siamo al prossimo esercizio, faremo leg card, 4 serie per 10, sempre 27 kg, quindi più 2. Ragazzi, ultimo esercizio per le gambe, faremo polpacci, crack machine, ragazzi, peso poco, non so nemmeno quanto sono, saranno 30 kg circa, ma vabbè, cominciamo così, perché è la prima volta che faccio l'esercizio in questo modo, vediamo come va, nel caso poi aumenteremo, ovviamente, faremo 3 serie, sempre per 12-15 ripetizioni, ci vediamo con l'esercizio. Ciao! 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 Grazie a tutti. Ragazzi, adesso addominali. Faremo come primo esercizio sit-up, tre serie per 20 ripetizioni, poi ovviamente laterali e basse. Ok ragazzi, sit-up fatti. Adesso ovviamente abbiamo bicicletta, tre serie per 12-15 per lato, mortale ovviamente ragazzi. Adesso ci chiediamo all'esercizio. Ok ragazzi, anche laterali completati. Adesso ultimo esercizio, addominali bassi, ovviamente reverse crunch. Tre serie per 15. Ok. Addominali completati. Esercizi tutti finiti. Allenamento finito. Per questa settimana stiamo a posto. Terza settimana completata. Ci vediamo lunedì con il prossimo episodio. Ovviamente la quarta settimana. Preparatevi perché ci sarà il devasto. Alla prossima. Ovviamente adesso check fisico. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.